e ciao a tutti in questo tutorial voglio farvi vedere come ho realizzato questa animazione che nel suo complesso è semplice però è costituita da tante piccole parti e movimenti andiamo a vedere i nodi che la compongono come vedete ci sono vari gruppi che compongono questa animazione questo l'ho proprio suddiviso perché è la parte del loghetto di youtube e quindi ho preferito suddividerla questa animazione l'ho realizzata tutta io ovviamente andando a step ben precisi adesso spero di riuscire a realizzarla insieme a voi perché devo farla sempre due volte per farvela vedere non riprendo mai mentre la sto realizzando e così devo rifarla esattamente insieme a voi poi abbiamo vari pezzi ad esempio qui questi nodi sono quelli che compongono quello che è il quadrato e una parte che è la rigina sotto con la frase e infine qui abbiamo la parte che esce con la label l'ho messa qua perché va sotto tutte queste righe verdi che vedete che poi ovviamente non ci sono sono delle maschere ecco qua l'animazione andiamo a rivederla pian piano vedete esce una riga che inizialmente gialla si ferma per una frazione secondo scende giù e cambia colore è un quadrato in questa vedete che entrano dentro il logo youtube e la fascetta sotto contemporaneamente esce questa che anche un bel motion blur e poi resta ferma infine si entra quella scendono di nuovo le fascette si ritrasforma in quadrato non so se se si vede pian pianino ritornano gli angoli ritornano ad essere appuntiti e l'animazione va su in teoria non è così difficile ma ci sono tanti tanti piccoli passaggi allora incominciamo la nostra animazione prima di tutto mettiamo un background che serve da base e lo colleghiamo all'uscita questo poi lo sistemeremo in trasparente per il momento possiamo lasciarlo nero andiamo a costruire quello che è il logo di youtube quindi prendiamo un background e questo background sarà bianco perché il logo di youtube invece di essere rosso alla base bianca lo colleghiamo e in uscita abbiamo tutto bianco come vedete prendiamo un poligono rettangolo lo uniamo e andiamo a ridimensionarlo già alla grandezza del logo di youtube poi andiamo a arrotondare i bordi ok qui dobbiamo costruire anche il triangolo possiamo anche zoomare ricordatevi con control e rotellina per fare questo prendiamo un altro background visualizziamolo di qua questo sarà rosso il rosso di youtube poi uniamo un poligono a mano libera li uniamo a quell'altro in maniera che venga sopra mettiamo la maschera del poligono e andiamo a disegnare da poligono il triangolino quindi possiamo entrare anche via dentro e usiamo i punti qua per fare un triangolo perfetto e poi da qua possiamo andare aggiustare se fosse storto e in questa maniera abbiamo realizzato il nostro login di youtube il triangolo è un po più grande possiamo aumentare size ok e questo qua come vedete costituisce il logo tutte queste parti qui adesso questa parte qua possiamo andarla a sistemare come spazio un po meglio non so se voi lavorate con la griglia inserita eventualmente eccetera io faccio così e vado a fare gruppo e al mio gruppo con f2 posso rinominare come logo youtube eccolo qua e qui abbiamo il nostro logo tutte le cose che creeremo avranno un trasforma perché attraverso questo trasforma possiamo andare a rimpicciolire e sistemare le cose questa è la dimensione intanto col trasforma possiamo spostarlo più in qua e col size come vedete possiamo rimpicciolirlo adesso andiamo a costruire il quadrato il quadrato si fa prima a monte perché perché il logo deve andare sopra il quadrato quindi il quadrato deve essere prima pensate sempre questo che quello che viene dopo è come fosse un livello di photoshop che va a nascondere quindi si fa sempre con un background lo uniamo sempre qui viene il suo merge che lo unisce questo sarà rosso uguale al triangolino che è interno se volete averlo uguale prendete la pipetta e fate così e l'avete uguale e con un altro rettangolo andiamo a unirlo come maschera per costruire lo proprio centriamo in realtà il logo sta più sulla parte alta e andiamo a ridimensionare la nostra figura che era più o meno così adesso io le misure non non le sto rifacendo corrette le sto rifacendo un pochino a occhio su questo poi andremo aggiungere gli angoli ma non all'inizio lo faremo dopo qua sopra adesso andrà un'altra fascetta bianca con la scritta youtube allora mettiamo un altro background lo facciamo sempre bianco diciamo che come colori non ce ne sono tantissime bene che sia tutto abbastanza uniforme prendiamo un altro rettangolo lo uniamo e lo andiamo a posizionare qua lo ridimensioniamo non ci interessa tanto la larghezza se volete prendere misure precise in relazione anche dell'altro oggetto possiamo abbassare l'alfa sul merge così in maniera da vedere vedete sotto l'altro pezzo l'importante è decidere l'altezza della fascetta e posizionarla correttamente qui magari diamo un'indicazione di larghezza però non avrà importanza perché vedrete che che poi lo aggiusteremo quindi anche se sborda un pochino può andar bene lo stesso qui la fascetta ha la scritta youtube quindi prendiamo testo lo andiamo a unire qui si crea un merge eccolo qua su questo testo scriviamo semplicemente youtube in grande eccolo qua mettiamo nero e andiamo a posizionare questa scritta qui la rimpiccioliamo come size la facciamo piccola quanto quanto desideriamo noi che la posizioniamo in centro scegliete il carattere tutte le caratteristiche ricordatevi di impostare il merge al massimo se no vedrete attraverso io direi che la scritta va un pochino più centrata sul layout la spostiamo a mano leggermente più qua vediamo si già meglio ok e cosa manca manca la il pezzo che viene fuori con la fascetta che lo facciamo ancora prima qui e poi vi spiego il perché allora prendiamo un altro background lo uniamo anche questa andrà bianca quindi impostate bianco ci conviene mettere subito il nostro rettangolo per dimensionarlo subito andiamo in altezza e scegliamo l'altezza della fascetta e la lunghezza della fascetta arrotondiamo già i bordi come vedete anche se più lunga non importa perché finisce dietro e poi adesso vi faccio vedere un'altra cosa sempre qua andiamo a prendere un testo e lo uniamo attraverso un merge che viene fuori da solo sul testo andiamo a scrivere il nome del nostro canale youtube ovviamente come vedete io vi sto facendo vedere a grosse linee come è fatta l'animazione non la sto ricostruendo con i parametri corretti perché poi io vi darò l'altra per cui avrete maniera anche di vedere bene com'era composta poi qua appunto vedete voi se la fascetta più su più giù con nome eccetera anche questa per muoverla mettiamo un transform in maniera da muovere tutto assieme perché quando poniamo trasforma sotto muoviamo tutto quello che sta sopra quindi da qua possiamo andare a spostare voi dite adesso si vede che va fuori adesso andremo appunto sistemare tutte quelle cose la vi faccio vedere come si ottengono andiamo a inserire dei trasform su tutte le parti questo è il cubo andiamo a inserire un trasform io sull'animazione per distinguere cosa ho fatto sul trasform ho fatto f2 trasform premo f2 e mi scrivo quadrato quadrato non cubo scusate ecco su qua c'è già scritto logo ma ricordatevi di muovere trasform potrei allineare tutti i trasforma in maniera questo abbiamo detto che la fascetta quindi alzo tutto e qua metto il trasforma e scrivo fascia sotto ok ricordatevi che gli spazi non sono accettati f2 scriviamo youtube e su questo lo stesso alziamo qui e scriviamo fascia nome e così abbiamo tutte le cose che dobbiamo spostare rivediamo media out ecco adesso vediamo come creare le maschere per andare a mascherare tutte le cose che stiano dentro le une alle altre innanzitutto questa qua del quadrato la ruoto per sotto adesso vi faccio vedere perché è una questione di avere un po meglio distribuito le maschere allora innanzitutto andiamo a mascherare qua cosa vuol dire quando con il trasformo la fascetta tornerà indietro bisogna che sia tagliata prendiamo un altro rettangolo e l'andiamo inserire sotto qui e andrà sul merge inseriamo sul merge vedete che sparisce tutto questo rettangolo lo spostiamo qua dietro a livello andiamo a invertire stando sul rettangolo qui inverti vedete che adesso taglia viene tagliato va già bene così come maschera ma se volete allungarla su tutta l'altezza del frame forse siete più tranquilli ora se andiamo a muovere di nuovo fascia nome questo qui vedete che quando sparisce in qua non si vedrà più e sembrerà uscire fuori dal quadrato perfetto adesso dobbiamo prendere la maschera che ha generato questo quadrato la diamo su tutti gli altri due punti quindi da qua andiamo sul primo punto e da qua andiamo al secondo punto vedete che subito come ho inserito la maschera si è tagliato youtube perfetto all'interno del quadrato e invece questa sul loghetto youtube cosa serve serve perché quando va giù scusate devo muovere questo quando va giù viene tagliato da quella maschera proviamo a togliere la maschera e vedete che ora è visibile quindi questa maschera serve per tagliare il loghetto adesso lo devo ritirare su un'ultima maschera che serve è sul quadrato cioè qui perché adesso ve lo faccio vedere la inseriamo qui sul merge sempre e forse avete già capito io devo fare così la posiziono qui perché muovendo il quadrato su vedete che viene tagliato e quindi è la prima animazione che il quadrato esce dall'alto bene allora su questa animazione adesso che abbiamo costruito tutti questi nodi corretti ovviamente dopo voi andate a prendere le singole cose ad esempio qua lasciate scritto youtube o potete scrivere iscriviti quello che desiderate è qua il nome del vostro canale che andrà su questo testo facciamo esempio canale di franco aversa potete anche centrarlo è tutto perché una volta centrato non lo muoverete più con l'animazione muoverete questo fascetta nome e quindi non non vi interessa se se io adesso lo volevo andare a spostare in qua più in su eccetera e ricordatevi che anche dopo potrete sempre cambiare colore se voi lo preferite rosso come logo per esempio eccolo qua se voi volete scegliere un altro font queste qui sono operazioni che potete fare anche dopo allora adesso facciamo esattamente andiamo da zero ci portiamo a zero quindi clicchiamo qui e incominciamo a fare la nostra animazione all'inizio dell'animazione cosa ci deve essere ci deve essere questo dentro quindi lo portiamo subito dentro fascetta nome con center x spostiamo tutto mi raccomando guardate che sia oltre il quadrato poi abbiamo la fascetta sotto fascia sotto che deve scendere quindi y la porto sotto basta basta scendere sotto non serve che sia tanto sotto e il logo youtube lo portiamo sotto quindi sempre inizio e lo portiamo sotto adesso prendiamo il quadrato e lo portiamo invece sopra ecco qua andiamo a cominciare a fare un po di animazioni allora il primo è proprio quadrato cliccate qua e fate animate oppure cliccate qua per fare il primo chi frega uguale scegliete dopo quanto deve scendere usci e scende subito quindi andiamo ad esempio a 5 frame e lo facciamo scendere un pochino poi ci spostiamo perché lui non scendeva subito faccia un pezzettino e poi scendeva dopo quindi ci spostiamo di qualche frame mettiamo un altro punto vedete che si è generato secondo punto ci spostiamo e lo facciamo scendere del tutto ecco attenzione quando vedete che arriva al bordo è sceso così perfetto e questo sarà il quadrato vedete eccolo qua guardiamo l'animazione in tempo reale ok questi punti ve li potete giocare come velocità e tutto andando su keyframe e andando a vedere il quadrato quindi andate qui in fascia di quadrato aprite e qui come vedete avete tutti i keyframe se sono troppo vicini se sta troppo poco fate altro che prendere i frame e allontanarli questi sono i due che sta fermo vedete questo è quello che scende del tutto quindi li cambiate e controllate avete visto adesso sarà un attimo fermato eccola così c'è più lo stop vedete poi scende ok perfetto è il quadrato diciamo siamo a posto poi possiamo fare un'altra cosa sul quadrato una volta che è sceso dopo un po andiamo spegniamoci i keyframe che fanno confusione sempre sul quadrato dobbiamo andare sul rettangolo del quadrato la maschera andiamo attivare sul raggio dell'angolo un keyframe in questo punto ci spostiamo e arrotondiamo gli angolini di poco e abbiamo generato che scende e poi si arrotondano gli angoli in questo attimo che lui scende che è arrivato qui andiamo a cominciare animare il logo e la frescetta sotto quindi prima logo mettiamo un punto dove è arrivato il quadrato qui ovviamente su center x y lo facciamo animate andiamo contatti di frame e alziamo il nostro logo facciamo una prova guardiamo arriva giù e poi va su perfetto poi tutte le cose come le line motion blur lo possiamo anche inserire dopo intanto guardiamo che tutta l'animazione sia composta quindi come questo sta arrivando su o lo facciamo arrivare in un secondo tempo muoviamo il fasciotto o come preferite è carino che 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 venga su adesso può così quindi il fasciotto la fascia sotto sarebbe il fasciotto andiamo animarlo quindi creiamo lo stesso qui animate decidiamo un tempo e lo facciamo salire vedete che adesso sale con i bordi arrotondati perché ha preso la maschera se vi piaceva di più che fosse salito con i bordi con gli angoli normali e poi che si fossero stondati assieme basta ritardare questo arrotondamento dell'angolo che l'animazione che abbiamo fatto vedete come preferite vediamo cosa è successo se volete vedere l'animazione senza tutti i segni cliccate sempre a vuoto così avrete l'animazione pulita e ecco qua avete visto molto simpatica questi sembrano quasi salire assieme se volete potete spostare un po i punti subito dopo uscirà la nostra fascia questa qui quindi portiamoci appena è sceso questo prendiamo la fascia adesso io non la sto facendo proprio uguale uguale l'animazione ma è per darvi l'idea di come l'ho realizzata anche un pochino prima inseriamo un punto e andiamo a decidere un tempo in cui esce e la facciamo uscire in orizzontale ecco qua anche di quanto desiderate voi rivediamo tutto sempre mi raccomando riguardare tutto come fosse un tema anche senza le righe sopra ecco magari un po troppo veloce la fascia fate così ritornate sui keyframe identificate la fascia fascia nome eccolo qua vedete che non ci si sbaglia perché se avessi lasciato trasforma avrei trovato 50 trasforma sarei diventato matto e qua allora questo posso allontanare per fare uscire un po più lento andiamo a vedere e ecco ora è un pochino più lento se volete farlo uscire prima eccetera avete già capito che alla fine faremo esattamente il contrario cioè una volta che sono usciti contiamo il tempo franco aversa che si regga il nome mi raccomando di avere i secondi necessari per fare l'animazione contrario e ripartiamo proprio da questa fascia quindi da qua facciamo un keyframe ci spostiamo e se voi siete matematici farete questo spostamento uguale lo spostamento finale o se lo volete più veloce decidete voi la faccio rientrare dentro attenzione che rientri sempre dopo del quadrato altrimenti quando il quadrato si alza la vedrete mi raccomando poi facciamo partire via youtube e logo decidete voi se parte prima la fascia in giù e poi questo se assieme come desiderate io faccio la fascia sotto quindi appena sta rientrando qui posso anche già farla partire do un punto mi sposto e scendo scendete bene questa volta stessa cosa su youtube vado qui mentre sta scendendo quasi arrivato metto un punto scendo e scendo anche con questa ora ultima cosa se volete ritornare con i bordi come ho fatto io tornate sul rettangolo quando stanno scendendo qui mettete un punto sull'angolo fate così e togliete l'angolo quadrato così si vedrà meglio della prima animazione che ho fatto poi andiamo su quadrato mettiamo un altro punto e infine con alcuni keyframe ritorniamo su clicchiamo come avete visto è solo questione aver tanta pazienza non è difficoltà rivediamo la nostra animazione ed eccola qua vedete è molto simpatico ora rientra e scenderanno e sparirà ecco avete visto si è visto un attimino qui alla fine sarà visto ecco qua che si vede un attimo c'è ancora in campo è stato veloce il quadrato andar su potremo andare sulla fascia del nome e capire perché ecco perché questo keyframe ancora indietro più avanti vedete quindi il quadrato è stato molto veloce quindi andiamo nei keyframe della fascia nome e questo punto qui lo portiamo così e ora la nostra animazione non avrà più quel problema eccola qua come sapete perché ho realizzato animazione così adesso l'ultima cosa da fare in assoluto oltre a andare su tutte queste cose che abbiamo animato e sui merge ad esempio su questo merge della fascetta sotto su setting trovate motion blur e lo accendiamo 3 dovete andare dentro tutte le cose che avete animato cliccare spline e andare una per una a ad esempio sulla fascia prendete questi punti e li fate così morbidi potete allungare anche un po la fine stessa cosa fate su altre cose spegnete bene questo logo di youtube prendete i due punti e date smooth fate così fate smooth su tutti i punti potreste farlo anche in un colpo solo quadrato fate così fate smooth potete potete prenderli anche tutti su un colpo se non vi fa confusione o se no se vi fanno confusione potete spegnerli così inquadrato manca solo sul logo l'abbiamo fatto ok e quindi adesso avrete tutto più morbido e come vedete col motion blur vedete perché non ve l'ho fatto vedere all'inizio perché rallenta tanto l'animazione come calcolo però guardate che bello che dopo andiamo su background e lo mettiamo in trasparenza prima di uscire anzi ancora in fase di programmazione fate così prendete tutti i punti tranne che il media out ve l'ho fatto vedere tante volte cliccate andate su setting save as e scrivete il nome della vostra animazione logo youtube con fascetta e premete salva o scrivete il nome che desiderate in maniera che ritroverete sulla directory dove avete salvato il file setting che si può trascinare andiamo nella edit e vediamo cosa abbiamo combinato ecco qua la nostra animazione eccola un po veloce la fine insomma vediamola con un video sotto cosa possiamo fare qui possiamo aprire l'inspetto come vi ho fatto vedere altre volte e zoomare vedete zoomare farla più piccola spostarla direttamente da qua quindi può essere anche grande in fusione ma poi la ridimensioniamo ovviamente dobbiamo riattendere render ed ecco il risultato o la il nostro nome franco versa è questa qui e avete visto appunto abbiamo ottenuto la nostra animazione evite voi il loghetto youtube l'abbiamo costruito direttamente qua in fusion perché perché io dandovi il setting avete già al logo che si costruirà però se voi avete un logo molto complesso di twitter con con l'uccellino cosa che magari è più difficile da realizzare potrete utilizzare anche un file png l'unica cosa che dovrete ricordarvi che assieme al vostro setting andrà abbinato sempre anche il png ad esempio ho importato un logo di twitter lo vado a inserire così con i media ricordatevi sui disegni sempre 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 allungate sempre l'auto se no non lo vedrete ecco qua mettiamo anche qui un transform e ci spostiamo l'uccellino dove lo vogliamo no lo facciamo più piccolo eccetera ecco se ad esempio dovessimo ricopiare questo uccellino cosa facciamo semplicemente mettiamo questo merge di qua andiamo a prendere un poligono a mano andiamo a ingrandire qui e con il poligono andiamo a copiare i punti così dell'uccellino poi entro dentro e regolo le curve di bg per andare a costruire una volta costruito il vostro poligono cosa fate buttate via il media che non vi serve prendete un background lo unite qua otterrete questo andrete a mettere il celestino del logo di twitter adesso potevo anche copiarlo dal logo stesso e il poligono lo butto come maschera e automaticamente mi si forma guardate tolgo la maschera metto la eccolo qua e il mio bellissimo logo di twitter adesso l'ho fatto un po velocemente questo logo qui l'ho disegnato io col poligono come avete visto e quindi se adesso distribuisco questo avrò è anche assieme il logo di twitter come vedete quello qua che è un po' piccolino ma adesso posso farci qualsiasi cosa al logo di twitter avete capito come disegnare la di anche ad esempio un vostro logo mettete il logo di sottofondo può essere anche la scansione qualsiasi cosa la mettete come media e poi la ricercate così con vari poligoni quindi potrete comporre anche un logo con più colori perché andrete unire più background con un merge che che uniscono i vari pezzi nell'animazione che vi darò file setting avete il nome del canale che va inserito qui quindi cliccate e inserite il nome del vostro canale invece qua in uscita ho aggiunto un keyframe stretcher perché perché farà così questo comando come vedete l'abbiamo già visto un'altra volta lui dice da dove parte l'animazione quindi a 0 e dove arriva a 165 poi prende due punti che sono quelli dove l'animazione è già uscita cioè qui e il punto dove il nome rientra in dentro cioè qui ecco cosa fa questa parte qui se voi allungate la clip sulla pagina edit cioè la tirate così vedete adesso l'animazione esce e rientra qui se noi andiamo a tirarla avrebbe dato errore perché lei si muoveva in quei tempi e quindi dopo avreste trovato del nero invece così con il time stretcher lui va a ricalcolare il tempo che l'animazione sta ferma lo va a strecciare da solo guardate esce e poi resterà tanto fermo l'animazione iniziale e finale restano uguali come tempi per cui non scendete sotto la durata dell'animazione standard e vedete che qua rientra con la stessa velocità se invece voi strecciate questi erano i punti mi sono messo due punti per sapere dove finiva l'animazione se io vado sotto cosa succede che la mia animazione verrà semplicemente troncata quindi attenzione a una cosa del genere vediamo l'animazione esce e poi qua taglia se volete potete utilizzare anche così magari mettendo una piccola dissolvenza se vi serve più corta però sappiate che non viene strecciato se diminuite il tempo io vi ringrazio per avermi seguito vi darò l'animazione quella mia definitiva e ci vediamo alla prossima volta ciao a tutti